Mi sono accorto che sono mesi, ripeto mesi, che non metto online un video della serie dei 5 libri di fotografia più uno che invece no e dire che è una delle serie che io preferisco in assoluto, quindi mi chiedo come mai? Beh, perché la vita mi ha portato a fare altre cose, mi ha portato a fare altre piccole scelte quotidiane, un po' del cavolo e magari ho un po' tralasciato questo filone, ma è giunto il momento di riparare a questo torto che ho fatto verso il mondo dell'internet, se così vogliamo chiamarlo. Allora, in questa serie presenterò 5 libri che riguardano strettamente la fotografia e uno che, sì, non è esattamente fotografico, anzi non c'entra proprio niente con la fotografia ma può essere utile e può essere interessante, prenderlo in considerazione da parte di noi fotografi perché in qualche modo ci può dare qualche spunto interessante e vedrete prestissimo come mai. Di tutti questi libri o ho già fatto un video oppure sto per realizzare un video, quindi se state guardando questo video ora nel momento in cui lo state guardando può darsi che trovate qui nella playlist, ok? Oppure in fondo al video meglio, metto la playlist in cui vi parlo dei libri specifici per quelli di cui ho fatto il video. Ma non perdiamo altro tempo, oggi partiamo con il numero 1, che non è una classifica, è il primo della lista. Oggi, il giorno in cui sto registrando è il 23 febbraio del 2023 e proprio in questi giorni cade l'anniversario dell'invasione russa verso l'Ucraina e quindi non potevo non parlarvi ancora una volta di Odessa che è questo straordinario libro di Yelena Yemchuk in cui Yelena Yemchuk ci parla della vita quotidiana a Odessa però ripresa qualche anno prima, cioè non durante l'invasione russa non durante, almeno non durante l'ultima invasione russa, ma durante diciamo il periodo che ha seguito la prima invasione cioè quindi l'annessione della Crimea. Lei è un'artista che ormai vive all'estero e si è recata a Odessa per realizzare questo libro perché Odessa è un po' il suo punto di riferimento da bambina, no? Il posto dove voleva andare quando era piccolina lei che abitava a Kiev voleva andare a Odessa a passare le vacanze, quindi torna a Odessa e realizza una serie straordinaria io ho anche una coppia firmata, quindi sono molto molto orgoglioso, ma lei realizza una serie straordinaria che ci racconta la vita quotidiana ma anche le speranze, i sogni, i dubbi, le paure di una generazione che probabilmente in questo momento conta una quantità di martiri che non starei neanche a contare un libro assolutamente da avere per vari motivi, non tanto per sostenere la causa bellica di questo, di quell'altro ma per rendersi conto di che cosa va a distruggere qualunque guerra, cioè la popolazione, le persone, le vite comuni le vite di tutti quanti, la mia, la tua, la loro. Stupendo libro, stupendo, veramente eccezionale Passiamo ora al secondo libro e questo è il catalogo della mostra che c'è stata a Torino presso le Gallerie d'Italia di Gregory Crutzon, la mostra intitolata Evening Side Perché vi consiglio questo libro? Beh, prima di tutto ovviamente perché Gregory Crutzon è uno dei miei autori preferiti me ne avete sentito parlare più volte, sicuramente vi ho quasi annoiato parlando di Gregory Crutzon ma in questo libro, a parte le introduzioni sono interessanti certamente Questo libro contiene ben quattro serie complete dell'opera di Crutzon e quindi, pur non avendo le dimensioni, da un punto di vista fisico, di altri libri come Bene the Roses, Twilight e così via, in questo libro voi trovate praticamente tutta l'opera più contemporanea di Crutzon e avete la possibilità quindi di apprezzarne l'elaborazione, i passaggi, le scelte, l'evoluzione e in quest'opera è contenuto Fireflies, che è una delle sue prime serie del 96 e poi la grande trilogia moderna che è Cathedral of the Pines assolutamente una delle mie opere fotografiche preferite in assoluto An Eclipse of Moths, veramente struggente e Evening Side, che è una serie che fa la summa delle prime due di Cathedral of the Pines e Eclipse of Moths tra l'altro asciugandolo tantissimo perché è tutto in bianco e nero cosa che per Crutzon non è così ovvio io ve lo consiglio veramente, la stampa è molto buona diciamo che non è archivia, cioè non è che vi mettete in casa un libro d'arte ok, ma è sicuramente un punto di partenza fondamentale perché se volete incominciare ad apprezzare Crutzon perché c'è tutto fondamentalmente e quindi in un solo libro potete avere una visione completa della sua opera veniamo ora al terzo libro che è di Max Kozlov è un libro che ho trovato, devo dire la verità, non l'ho comprato o meglio l'ho comprato a un prezzo molto ridotto alla rifa dei libri di Vanity Fair quando lavoravo ancora in Condenast ma ho visto che è ancora disponibile online e devo dire che è un libro eccezionale ed è di Max Kozlov The Theatre of the Face Posture Photography Since 1900 eccolo qua Il teatro del volto la fotografia di ritratto dal 1900 di Max Kozlov perché dico che è eccezionale? perché è uno di quei libri cronologici ok? edito da Fidon in cui possiamo andare a ragionare su uno il concetto e due la realizzazione del ritratto con tutti i suoi vari sottogeneri tutti i suoi vari aspetti problematici tutti i suoi aspetti più innovativi ci sono fotografie straordinarie stampate molto bene comunque Fidon lavora sempre molto molto bene e devo dire che è stata anche una lettura molto interessante non c'è nulla di illuminante di rivoluzionario ma è comunque un buon modo per mettere insieme le idee sul ritratto e credo che data la mole perché vedete è un bel librone la mole la quantità di fotografie la qualità delle fotografie e la chiarezza dell'esposizione di Kozlov penso che sia veramente un buon punto di partenza se prima quello di Kruzlov era un buon punto di partenza per conoscere Kruzlov questo è un buon punto di partenza per conoscere quest'arte straordinaria questa forma di espressione straordinaria che è la fotografia e in particolare la fotografia di ritratto quindi 5 stelline a questo libro che ho trovato un po' per caso ma che vi consiglio assolutamente ora mi stupisce non ho ancora parlato in nessuno dei miei video ma presto ne farò uno apposito è The Photographer's Eye di John Sarkovsky attenzione non confondetelo con l'occhio del fotografo di Friedman Freeman di Michael Freeman che è diciamo il libro di testo che viene dato molto spesso nei circoli fotografici per imparare la composizione ok quello è l'occhio del fotografo è valido anche quello poi magari ve ne parlerò e questo invece è The Photographer's Eye non credo ci sia una traduzione in italiano è un libro difficile da trovare su Amazon va e viene spesso si trova solo usato ed è una pietra miliarda della fotografia assolutamente John Sarkovsky è stato il curatore del MoMA della parte fotografica del MoMA è il benemerito che ha portato William Eggleston a esporre con una personale proprio al MoMA sdoganando quella che sta che è la fotografia a colori nel mondo dell'arte fine art e dell'arte contemporanea e in questo libro ci parla di come i fotografi vedono come dice il titolo The Photographer's Eye ma è un modo per capire perché le fotografie sono così cioè mettendosi nei panni del fotografo tra l'altro è un libro che ha un'introduzione di Sarkovsky poi ci sono che veramente leggete in 5 minuti ok e poi ci sono tantissime tantissime fotografie che servono proprio per allenare l'occhio in alcune ci sono delle didascalie interessanti sempre scritte da Sarkovsky ci sono capitoli in cui è suddiviso il libro ma quello che è veramente importante è utilizzarlo come strumento è un libro che serve un libro da un punto di vista proprio pratico è il sussidiario della visione se così vogliamo chiamarlo è un è un è un'antologia è un è un modo per entrare in contatto appunto con la visione che hanno avuto i fotografi interpretarla e provare a creare una nostra visione e quindi ve lo straconsiglio ne farò sicuramente un video dedicato perché questo ancora non l'ho fatto poi ne ho già parlato nei 10 libri di fotografia del 2022 ma ve ne parlo ancora perché presto uscirà un bel video su questo ed è Gestus di Jeff Wall scritti sulla fotografia e sull'arte mi ha affascinato soprattutto perché non parla solo di fotografia ma comunque la fotografia è un aspetto molto importante di questo libro e ci sono due saggi è un è un libro scritto mentre ci sono poche fotografie c'è un compendio fotografico a metà però diciamo che è un saggio di fotografia ok e ci sono due articoli scritti da Jeff Wall che mi hanno veramente colpito tantissimo e il primo è molto breve sono tre pagine e magari potremmo leggerlo in una delle nostre live se non siete mai venuti in live iscrivetevi al canale perché quando andiamo in live leggiamo cose interessanti e secondo me sono anche molto divertenti da fare questo è un articolo di tre pagine che si intitola fotografia liquida fotografia e intelligenza liquida che è illuminante praticamente in tre pagine ci spiega veramente tantissimo di come la fotografia funziona e poi l'altro saggio che mi ha veramente super interessato è segni di indifferenza aspetti della fotografia nella o come arte concettuale ovviamente qui non è che vi faccio vedere cose perché è un articolo scritto ovviamente bisogna interpretarlo Jeff Wall non ha una scrittura fluida non è chiaro cioè non è un facilone da leggere non è un autore che si può leggere in cinque minuti quando sei un po' stanco devi metterti lì e imparare un pochettino ad apprezzarlo e a studiare però io credo che questo libro sia veramente che anche questo ho comprato un po' caso veramente un libro importante un libro importante sembra la parola che dicono gli allenatori di calcio quando non sanno cosa dire però un libro estremamente utile per chi vuole introiettare la fotografia ancora di più e veniamo ora invece all'ultimo libro che è quello che non c'entra con la fotografia ma che secondo me in qualche modo può essere utile e che è Il mestiere di scrivere di Raymond Carver edito da Einaudi questa è un'edizione un po' vecchiotta adesso mi pare che abbia una copertina un po' diversa ma il contenuto è il medesimo e la cosa interessante cos'è che Carver vabbè non so se devo presentarlo ma Carver è uno dei più grandi scrittori del novecento uno dei miei preferiti in assoluto grande grande poeta grande grande scrittore di racconti e nella vita anche grande grande insegnante di scrittura creativa e questo libro raccoglie molte delle sue lezioni un po' se vogliamo come è stato fatto per Luigi Ghirri in lezioni di fotografia diciamo che contiene una summa delle sue lezioni dei suoi insegnamenti verso gli studenti che studiavano scrittura creativa da lui ma oltre a questo che è utilissimo è fighissimo è veramente interessante in fondo ci sono i 50 esercizi che Carver dava ai suoi studenti da fare per imparare a scrivere e siccome la fotografia si non usa l'inchiostro o almeno usa l'inchiostro per stampare le foto ma insomma non usa la scrittura così come lo intendiamo comunemente ma usa la scrittura con la luce è comunque correlata a questo modo di approcciarsi soprattutto quando si vuole raccontare qualcosa quando si vuole raccontare una storia e quindi se voi prendete questo libretto e andate leggetelo cioè veramente è un libro leggero molto anche divertente spesso quindi leggetelo ma in fondo ci sono questi 50 esercizi non tutti possono essere veramente riportati sulla fotografia ma moltissimi sì e io penso che sia qualcosa di molto utile e che penso che farò anch'io perché ho ripreso in mano il libro settimana scorsa mi sono ricordato di questi esercizi e ho detto beh questo è da proporre alle persone che mi seguono sul canale perché è una di quelle cose di quelle chicche che secondo me sono davvero davvero molto utili ed è tutto sono 5 libri più uno che non c'entra niente con la fotografia ma come avete visto c'entra di striscio se vi è piaciuto questo libro questo sì ciao questo libro mia zia questo video vi invito a iscrivervi al canale condividerlo con gli amici o le persone che potrebbero essere interessate e se vi va se per caso questo mio sforzo online per riguardare la fotografia vi interessa particolarmente sapete che ci sono due modi per aiutarmi veramente concretamente che uno dei quali è tp trovate il link qui sotto nei terzi qua sotto ottono il tp dove potete contribuire economicamente e permettermi di acquistare tanti altri libri da proporvi e da spiegarvi nelle live nei video eccetera eccetera ma anche se volete vi potete abbonare qui sotto c'è il pulsante abbonati o join se avete l'interfaccia in inglese di youtube dove ci sono sostanzialmente i primi due perks i primi due tier di tp sono riportati anche su youtube un modo per rendervi la vita più facile se non volete passare a tp e infine infine su telegram in questo momento io vi dico sempre di iscrivervi in questo momento se vi iscrivete potete partecipare al sondaggio per decidere quando fare le live quindi ancora per qualche giorno rimarre diciamo attuale questa cosa che vi ho appena detto iscrivetevi comunque al canale telegram perché spesso propongo questo tipo di cose se volete e per quanto mi riguarda da parte mia possiamo dire che è davvero tutto e ci vediamo al prossimo video ah e un abbraccione naturalmente ciao magari se guardate questo video in futuro potrebbe essere interessante vaffanculo